Eccoci qui per una nuova puntata di Road to Civil Week che di settimana in settimana ci avvicina alla prossima edizione di Civil Week 2024 che si intitola La Costituzione, siamo noi. E della Costituzione e del tema specifico di questa puntata che è la cultura parliamo con Paola Pessina, Presidente di Fondazione Comunitaria Nord Milano. Grazie mille a Paola Pessina, Presidente Fondazione Comunitaria Nord Milano, di essere qui con noi. Grazie a voi, per noi è sempre un piacere poter raccontare un po' della nostra realtà metropolitana, in realtà appunto perché Nord Milano è una area, è una sezione dell'Interland, quello che noi chiamiamo Interland, interessante perché somma 23 comuni, tra cui ce ne sono 6 dei 10 più popolosi di tutta l'area metropolitana. Quindi parliamo di Sesto Cinisello, Ro, Bollate, Interland Duro. A me piace ricordare che a Settimo Milanese, che è uno dei nostri comuni, c'è la culla del TREP. Discutibile finché vogliamo però, è un'esplosione di creatività e soprattutto di quella fusione di culture diverse nelle generazioni nuove che davvero caratterizza, se un'identità è possibile reperire, caratterizza le nostre comunità. Quindi in questo territorio così ricco, articolato, come vede realizzarsi l'azione generativa del terzo settore? Come vede realizzarsi qual è l'importanza del terzo settore e se ha visto negli anni un'evoluzione? Allora, per come siamo composti, do un altro dato, Baranzate, che è uno dei nostri 23 comuni, è il comune italiano che ha una maggior mixité di popolazione. In due vie cittadine praticamente si sommano origini da 70 paesi diversi. Quindi per noi le strategie di inclusione non sono un elemento che certifica la nostra bontà, ma assolutamente un elemento di sopravvivenza e tra l'altro imparato dalle nostre comunità già a partire dalla metà del secolo scorso, perché per noi l'immigrazione, prima di essere come oggi da oltre confine extraeuropea, è un dato italiano. Quindi su queste popolazioni padane si sono venute a innestare un po' tutte le identità delle regioni italiane. La rete del terzo settore è un elemento fondamentale di inclusione, ma anche qui le radici sono storiche. Io penso alle scuole elementari dei nostri paesi o alle parrocchie, agli oratori dei nostri paesi, che hanno imparato ad accogliere i bambini, tra l'altro sui bambini lo stigma della diversità è molto depotenziato. Sono bambini. Ecco, hanno imparato ad accogliere i bambini, ripeto, da decenni e decenni. Quindi le strategie di inclusione sono in qualche modo connaturate ed è normale che chi fa volontariato o poi chi fa solidarietà da un punto di vista professionale, cultura inclusiva da un punto di vista professionale, adotti questi atteggiamenti mentali. Per cui prima di tutto il diverso sai che c'è e non ti fa paura se lo guardi negli occhi. La prossimità toglie l'ansia del sapersi, tra virgolette, invasi. Il terzo settore, da questo punto di vista, è una delle reti fondamentali, ma io credo anche riconosciute dall'ente pubblico. I nostri comuni molto presto hanno imparato ad avvalersi in maniera ragionata e sensata dell'apporto del terzo settore, per esempio con pratiche di coprogettazione. Un esempio di queste pratiche? Allora, ho in mente per esempio nell'area di Ro il tema della solitudine degli anziani. Tra l'altro anche lì si faccia mente locale un anziano che viene da una lontana regione italiana, oggi ha 70-80 anni, non ha qui la sua famiglia, la sua comunità di riferimento, i figli magari non lavorano vicino a lui. Per lui la solitudine è veramente pesantissima. Per un anziano di cui ci sono almeno gli ex compagni di scuola, vai al bar, li trovi. Per queste persone non è così. Nell'area di Ro le realtà di terzo settore hanno creato, tra l'altro in tempi di Covid, che sono stati un grande incubatore, un progetto che hanno battezzato Soli Mai, con cui si utilizzano le risorse di anziani giovani o comunque di anziani attivi, pensionati ma ancora molto padroni di sé, per poter stringere relazioni con anziani in situazioni di isolamento. È talmente evoluto questo progetto, tra l'altro in origine sostenuto proprio dalla Fondazione Comunitaria, con un suo contributo, che è stato incorporato nei servizi del Comune di Ro e poi degli altri comuni del territorio rodense, grazie al fatto che, per esempio, a Ro esista, come esiste a Cinisello, come esiste a Bollate, un'azienda consortile che tiene insieme tutti i comuni dell'area, che quindi è in grado anche di fare economie di scala e di proporre buone pratiche, non solo a un comune privilegiato e più forte di altri, ma a tutto il sistema dei comuni connessi. Lei sta di fatto raccontando quelle che sono le buone pratiche dell'agire civile, che però viene sancito dalla nostra Costituzione e per noi è importante perché si viluica il titolo La Costituzione siamo noi, quindi dal suo osservatorio privilegiato, quali sono i valori che stanno alla base di queste buone pratiche, quindi i valori che tengono in piedi quelli che possiamo a tutti gli effetti definire agire costituzionale? A me viene in mente un concetto cardine, poi declinato in tutti gli articoli della Costituzione, se volessimo entrare nel merito di alcuni potremmo farlo, ma il concetto cardine è che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti e nelle forme della Costituzione. Ecco, il popolo è sovrano, vuol dire che il cittadino ha un potere e può esercitarlo, e il tema è proprio quello della responsabilità. La parola responsabilità è magica perché vuol dire che ti si ritiene abile a rispondere, responsabile, quindi intanto contiene un dato di autostima fortissimo, tu puoi rispondere, tu hai un potere che può incidere sul reale attorno a te, più facile da esercitare se non lo eserciti da solo, ma insieme alla tua comunità, per esempio, e le risposte sei in grado di leggerle, quindi è l'invito a guardarsi attorno, prima di tutto a non chiudersi nel guscio, a interpretare le domande a cui poi tu insieme ad altri sei capace di rispondere, che è la base dell'attivazione di cittadinanza. È un po' quello che dicevo prima, la necessità di far fronte ogni volta a persone e realtà nuove che ti vengono addosso. Qui io sottolineerei anche un altro dato, siamo a Milano, in mezzo alla pianura, noi non abbiamo cinte di monti, fiumi, che ci consentano di chiuderci e di proteggerci e di difenderci. Noi siamo per forza esposti ai fenomeni, Tra l'altro Milano è in mezzo a due corridoi, nord-sud-est-ovest, che collegano tutti i punti d'Europa, è in mezzo. E quindi i fenomeni da noi arrivano prima. Arrivando prima pongono delle domande, se la responsabilità, la sovranità che appartiene al cittadino, non si attivasse per trovare le risposte saremmo sopraffatti. Quindi torno a dire quello che dicevo prima, è una strategia di sopravvivenza, ma che in qualche modo ci abilita ad essere più lucidi e anche ad apprezzare quello che tante volte è un concetto teorico. In realtà per noi è pratica quotidiana. Lo stare in rete da solo non ce la puoi fare. Quindi ti viene spontaneo agganciarti il link, è una dinamica preziosa, agganciarti a chi attorno a te condivide gli stessi valori e tende a dare risposta alle stesse domande, a fronteggiare le stesse emergenze o le stesse criticità, che poi spesso non sono emergenze, sono la normale fatica del vivere insieme. Grazie davvero Paola Pessina. Ci vediamo alla Civil Week allora. Certamente. Quella è la celebrazione della responsabilità e della sovranità dei cittadini. Bentornate in studio con due vicepresidenti. Abbiamo qui con noi Alessandro Audino, vicepresidente di Ghost APS, e Francesca Rossini, vicepresidente della cooperativa La Fucina. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Abbiamo un'intervista doppia, quindi faremo con Alessandro in studio, Francesca in collegamento. Le domande però sono le stesse, perché sono le domande che più ci interessano e sappiamo che voi avete delle risposte davvero utili. Io direi così, utili. Anzitutto, che cosa fate? Qual è la vostra attività che si confà a quello che è il tema di questa puntata, che è appunto la cultura? Prego Alessandro, partiamo da te. Allora, io sono il vicepresidente di Ghost APS, che è un'associazione culturale che cerca tramite l'arte del teatro di portare appunto cultura, ma non solo anche tempo libero e divertimento per il pubblico che magari viene a assistere ai nostri spettacoli. Che siete a Bollate, giusto? Bollate, sì, siamo a Bollate e un ramo molto importante della nostra associazione è anche quella della formazione. Noi infatti organizziamo corsi di teatro sia per ragazzi che per adulti e quindi tramite i nostri corsi cerchiamo appunto di instillare la, come si può dire, la curiosità almeno dell'arte del teatro. E siete in tanti? Sì, siamo in tanti, devo dire. Ormai siamo come soci più di un centinaio tra allievi e volontari che danno il proprio tempo libero per portare avanti questa associazione che ormai è abbastanza grande e ci vuole un sacco di tempo, quindi tanti volontari. Anche tu sei un volontario? Sì, sì, assolutamente. Perché allora io ho iniziato come allievo di un corso di teatro dell'associazione che era già aperta e mi sono appassionato. Il mio docente era ed è l'attuale presidente dell'associazione Omar Mohamed e quindi mi sono appassionato e poi sono diventato anche io volontario e ora sono il vicepresidente. E trasmetti l'arte. Esatto, esatto. E fate un po' di tutto perché sia recitate, ma quando c'è bisogno fate regia, i tecnici e anche studiate proprio testi, rimaneggiate testi, fate copioni, fate tutto. Sì, 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 assolutamente. Praticamente chi entra nel nostro mondo magari inizialmente arriva come corsista di un nostro corso, poi si appassiona, iniziamo a tirarlo dentro nell'organizzazione e poi si fa un po' di tutto, insomma, perché è anche bello spaziare per gli altri aspetti del teatro che non sono solo quelli di essere su un palco a recitare, ma c'è dietro la ricerca dei testi, la riscrittura per fare gli adattamenti teatrali, la regia, la parte tecnica, audio, luci, quindi insomma ce n'è di cose da fare ed è bello vedere i vari aspetti. E passiamo a Francesca perché immagino che anche la cooperativa La Fucina faccia davvero tante cose. Quindi ti lascio la parola, raccontaci un po' come trasferite, trasformate, traducete la cultura ogni giorno in qualcosa, in azioni pratiche. Buongiorno, grazie. Allora, io sono appunto Francesca Rossini, sono vicepresidente della cooperativa sociale La Fucina che ha sede a RO, ma che sviluppa una serie di progetti anche su altri territori, comunque sempre su suolo lombardo. La cooperativa La Fucina ha compiuto 21 anni, quest'anno siamo partiti anche noi dal teatro, parlo al femminile perché la cooperativa ha una storia al femminile che poi ovviamente è evoluta nel tempo, ma è nata da delle soci, da una compagine squisitamente femminile. Oggi diciamo che il teatro, così come tutte le altre forme d'arte, la musica, la danza, la creatività, sono gli strumenti e la metodologia che utilizziamo nel nostro lavoro, che ha un carattere più spiccatamente sociale, in particolare educativo, all'interno dei nostri progetti. Lavoriamo sia con l'infanzia, abbiamo aperto un polo 06 nel comune di Vimodrone, dove appunto in realtà facciamo educazione attraverso la cultura e gestiamo invece uno spazio giovani nel comune di RO, dove la cultura è il tema centrale delle nostre attività, perché tra musica, radio, arte di tutti i tipi, danza, teatro, diciamo è un polo che resta vivo proprio grazie alla cultura e grazie alla cultura fa educazione delle nuove generazioni. Molto interessante questo aspetto dell'educazione per le nuove generazioni che poi anche la formazione che fanno a GOS, quindi siete veramente in linea e animate il territorio, perché da quello che fate portate veramente innovazione, un cambiamento sociale. Tutto questo come lo traducete per la Civil Week dal titolo alla Costituzione siamo noi. Quindi Francesco, che cosa porterete all'edizione 2024 di Civil Week Palinsesto Vivere? Allora, noi porteremo uno spettacolo a Leggio che si intitola La Casa Comune, che è uno spettacolo che abbiamo scritto noi dopo che abbiamo letto un libro di Beppe Stopp che si intitola Una storia sbagliata, dove venivano raccontate queste storie di persone che per una loro scelta sbagliata, una sfortuna o una scelta di qualcun altro che ha imposto a loro una caduta sono passati per la Casa Enzo Iannacci di Viare Hortless a Milano, che è una casa di accoglienza che dà supporto a chi appunto ha un momento di difficoltà nella propria vita e gli dà la possibilità quindi di riuscire a rimettersi in carreggiata. Noi abbiamo scelto alcune di queste storie e le portiamo in scena leggendo appunto dei brani tratti da quel libro. Quando? Sarà in scena venerdì 10 maggio presso la sala conferenza della Biblioteca di Bollate alle ore 21 quindi vi aspettiamo ovviamente. Invece Francesca dove e quando vi possiamo trovare durante la Civil Week e che cosa ci possiamo aspettare? Allora ci trovate allo spazio Mast di Ro via San Martino 22 che è appunto lo spazio che la mia cooperativa ormai gestisce da qualche anno che è uno spazio appunto a vocazione principalmente giovanile e aggregativa. Anche noi andremo in scena la sera del 10 maggio alle ore 21 con una serata dal titolo Proud to be you che è diciamo un po' un format che abbiamo lanciato l'anno scorso proprio con la Civil Week sul territorio del Rodense che vuole essere un po' proprio una sintesi tra le arti quindi sarà una serata a tutto tondo con musica quindi ci saranno delle esibizioni di band e di artisti giovanili del territorio ci sarà il teatro ci sarà la danza ci saranno dei monologhi di alcuni dei ragazzi e delle ragazze che frequentano lo spazio Mast durante l'anno non saremo soli perché a fianco a Cooperativa della Fucina saranno presenti Caminante APS che è una associazione culturale scusate di promozione sociale del territorio che fa teatro e Casa Azul che è un'associazione invece che si occupa dei diritti delle donne perfetto allarghiamo un attimo un po' lo sguardo perché vorrei sapere anzitutto da Alessandro quello che ci ha appena raccontato quindi tutto quello che fate come pensi e anche come vedi che impatta nella generazione di un reale concreto bene comune sul tuo territorio ma allora noi come associazione puntiamo da sempre alla diffusione dell'arte del teatro perché crediamo che tramite questa si possa da un lato educare dall'altro anche divertire e dare la possibilità di socializzare le persone perché comunque frequentando dei corsi o andando a teatro organizziamo anche uscite per vedere spettacoli di altre compagnie comunque si crea quella che è la socialità appunto e inoltre noi puntiamo anche in tanti stati è già così che il teatro entri proprio nelle scuole perché dal nostro punto di vista è molto importante sembra un gioco tra l'altro in inglese si dice to play giocare però se uno si mette nei panni degli altri cerca di capire che tipo di vita ha avuto e le scelte che ha fatto che ha dovuto fare si è trovato costretto a fare questo ti permette di capire un po' meglio il mondo che hai intorno e forse quindi riuscire a fare poi delle tue scelte personali nella vita vera che invece ti possano permettere poi di essere più solidale con gli altri aiutare e io credo e io credo che la cultura in tutti i campi come diceva anche prima Francesca ti apre la mente e se hai una mente aperta allora puoi davvero vivere bene la vita che ci è concessa insomma non so se Francesca condivide le parole di Alessandro e appunto rilancio la domanda anche a te rispetto a quello che fate tutti i giorni aggiungo una parola alle parole che ha usato Alessandro che è bellezza nel senso che credo che quello che facciamo ogni giorno attraverso la cultura che fa educazione o l'educazione che si fa cultura insomma mettiamola un po' un po' come volete sia un generatore di valore e un generatore di bellezza in senso generale nel senso che noi in particolare a Ro con lo Spazio Mass lavoriamo tanto con i giovani del territorio con ragazzi e ragazze che sempre di più si trovano ad affrontare sfide esistenziali proprio di vita cosa faccio oggi cosa faccio domani chi sono dove vado chi sono soprattutto e in una maniera sempre più importante domande sempre più importanti sempre più grandi e portare cultura portare la bellezza che la cultura genera e permette di generare ci permette non solo di stare in contesti belli e di stare in contesti gioiosi perché la bellezza per fortuna porta anche gioia tendenzialmente e viceversa ma ci permette anche di crescere accanto a questi ragazzi e a queste ragazze di poterli supportare quindi di fare educazione che poi è la prima missione della nostra attività e in questa maniera in qualche modo ciò che facciamo ha un impatto importante perché permettiamo ci affianchiamo alle persone e insieme a loro percorriamo un tratto di vita che è un tratto di vita di crescita e speriamo generativo di valore è davvero arricchiente ascoltarvi quindi io vi lascerei con un'ultima domanda a cui vi chiedo di rispondere e cioè ancora più in generale allargando ancora più lo sguardo secondo voi il terzo settore o non profit che cosa davvero porta di generativo che cosa contribuisce a cambiare parliamo certo del tema cultura nello specifico quindi anche fuori e oltre i confini di quella che è la vostra azione quotidiana partiamo sempre da Alessandro grazie ma allora secondo me tutte le associazioni del terzo settore vanno un po' a coprire un buco che c'è nella nostra società laddove non arriva lo Stato per una questione probabilmente di risorse interviene il terzo settore noi dal punto di vista culturale ad esempio però io ho avuto modo di essere utente a volte anche volontario ma soprattutto utente di altre associazioni del terzo settore che per esempio aiutavano nell'ambito sanitario oppure nel trasporto di malati che dovevano andare in ospedale e laddove appunto lo Stato è carente intervengono queste associazioni ad esempio per trasportare l'anziano che doveva andare a fare una visita specialistica in un ospedale banalmente non guida più quindi sono tante piccole piccole grandi difficoltà che purtroppo ognuno di noi nella propria vita può attraversare in un momento particolare e questo hai un aiuto da parte di queste associazioni da parte delle associazioni del terzo settore che altrimenti non avresti e ti trovi poi in una rete sociale di persone meravigliose che tu dici ma loro esistono è vero è vero grazie Alessandro Francesca chiudiamo con te allora è una domanda che mi stimola molto perché è una riflessione nella quale sono spesso immersa anche per motivi di lavoro parto facendo parto dal modello cooperativo perché è quello che conosco e perché è quello che ho scelto come lavoro come impegno impegno civile sociale quotidiano modello cooperativo che tra l'altro è citato visto che parliamo di Costituzione nell'articolo 45 quindi un modello che viene ampiamente riconosciuto dal nostro Stato e parto da lì perché credo che il terzo settore abbia la possibilità la fortuna anche proprio di provare a portare un modello nuovo di fare società che è un modello che non solo riporta la persona al centro ma crea reti come giustamente diceva diceva Alessandro e soprattutto che ha uno sguardo lungo nel senso che ha uno sguardo proiettato non solo a quello che accade qui e ora oggi ma a quello che accade nel futuro alla persona che cresce alla persona che sarà e ai cambiamenti che il lavoro che fa una cooperativa sociale una fondazione un'associazione culturale di promozione sociale può generare non solo qui e oggi ma soprattutto nel lungo periodo per le persone e per le comunità quindi credo che e appunto qua mi ripaccio al modello cooperativo mutuando insomma i suoi principi i suoi valori credo davvero che sia proprio un modello alternativo sia dal punto di vista economico ma non solo proprio da un punto di vista sociale e di come intendiamo una nuova società basata appunto sulla persona e sulla comunità grazie davvero non solo per questa chiacchierata ma grazie per quello che fate tutti i giorni e per il vostro sguardo ampio che avete che spero possa contagiare quanti più cittadini attivi grazie anche a quanti ci hanno seguito e continueranno a seguirci a condividere questa road to civil week aspettando l'edizione civil week del 2024 la costituzione siamo noi buona civil week a tutti